Io penso che sia un'occasione importante quella dei fondi europei che arrivano nel nostro paese per realizzare quello che era l'obiettivo di tanti anni fa. C'è un vecchio progetto dell'ingegnere Macchi, un ingegnere di Roma, che prevedeva il raddoppio della Montella Battese a quattro corsie con tutte le soprelevazioni. Vuol dire questo dimensare i tempi di concorrenza, di percorrenza, vuol dire nell'opportunità di peso urbino, capitale europea della cultura, di avere delle infrastrutture adeguate ad un territorio come il nostro. Vuol dire, come è successo per Matera, cambiare il volto di questo territorio e di accrescere l'interesse culturale, sociale del mondo delle imprese per questo territorio. Vuol dire creare opportunità di lavoro, di crescita, di sviluppo e di una realtà molto importante perché lungo questa vallata non è solo peso urbino, passando per Vallefoglia, diciamo, capoluogo di provincia, ma anche una vallata economicamente molto importante. Quindi avere le idee, i progetti concorre alle opportunità che l'Europa metterà a disposizione. Io penso che l'incontro fra le istituzioni, le amministrazioni, la Regione, la Provincia e i Comuni posso essere un'opportunità per interloquire col governo e con l'Europa e avere questa opportunità per il futuro, per i prossimi anni, per questa vallata. La viabilità ordinaria tra Pesero, Fano, Fossombrono, Urbino, Vallefoglia, Pesero, per la metropolitana fuoriterra, è chiaro che raddoppiare, diciamo, la viabilità tra Pesero Urbino, percorrere magari anche con una mobilità pedonale ciclabile fiancheggiando la strada e magari anche una metropolitana fuoriterra, leggera, e non solo è affascinante, ma consente di avere tanti investimenti e di dare in questo territorio un territorio che ha una dimensione europea d'avanguardia.